Joe? Dove sei? Non riesco a vedere niente! A quanto pare la serata è iniziata. Secondo te, quali dovrei mettere? Vado per quelli viola, allora. Oh, no! Spegni subito la macchina del fumo, Joe! L'ho appena spenta, tranquillo. C'è un incendio e le scale sono bloccate. Oh, no! Chiamiamola squadra antincendio e soccorso. C'è un incendio alla trattoria del pesce intero e Bronwyn è intrappolata al piano superiore con i pantaloni da discoteca. Incendio alla trattoria del pesce intero e Bronwyn è intrappolata al piano superiore con i pantaloni da discoteca. Sam, va con Ellie su Jupiter. Io vado con Elvis su Venus 2. Non preoccuparti, ti facciamo uscire subito da lì! Ellie, va a staccare la corrette. Io ho affronto l'incendio principale. Ricevuto, Penny! Non preoccuparti, leone, sei al sicuro con me? Bene! Vieni qui, Bronwyn! Tocca a te! È completamente spento, Penny! Oh, ricevuto, Ellie! James Jones è disperso in montagna. Richiesto intervento della squadra di ricerca e soccorso. James Jones è disperso in montagna. Richiesto intervento della squadra di ricerca e soccorso. Io vado con Penny e Tom su Wallaby 2. Sam, tu seguici con l'ambulanza. Ricevuto, Ellen. Ricordati della gazzosa, Sam! Ricordati della gazzosa in latina! James! Dove sei finito? Oh, accidenti. Speriamo di trovarlo quanto prima. Il sole sta iniziando a tramontare. Aiuto! Aiuto! Sono qui sotto! Si sta facendo buio, Tom. Dobbiamo trovare James, subito! Ricevuto, Sam! Attivo immediatamente la scansione termica. Bingo! A quanto pare l'abbiamo trovato! Tieniti pronta a scendere, Ellen! Ricevuto, Tom! Tom! Non preoccuparti, James. Ti riporteremo a casa sanno e salvo. Sei ferito? Eh... No! Non credo proprio. Tieniti forte, James. Adesso ti tiriamo fuori da qui. L'ho preso, Penny! Tiraci su! Ricevuto, Ellen! Rimani in posizione, Tom! Ciao, zio Sam! Non è ferito, Sam, ma guida comunque con prudenza. Per oggi ha già avuto un'esperienza abbastanza adrenalinica. Ricevuto, Ellen. E non preoccuparti, mi ricorderò anche della gazzosa. Spregati, Sara! Abbiamo un altro cliente! Sarò veloce come un fulmine! Oh, una pecora mi sta divorando! Sara! Attenta! Ti stai muovendo! Non riesco a raggiungere i pedali! Oh no! L'auto con Sara si sta muovendo! E sta andando dritta verso la spiaggia! Meglio chiamare la squadra di salvataggio. Sara Jones è intrappolata nell'auto dell'infermiera Flood e si sta muovendo verso la spiaggia. Sara Jones è intrappolata nell'auto dell'infermiera Flood e si sta muovendo verso la spiaggia! Cos'è? Questa mistenza! Questa mistenza! Questa! Questa! Sara, se riesci a sentirmi Prendi la radiotrasmittente Sara, riesci a sentirmi? Riesco a sentirti, zio Sam Forte e chiaro I soccorsi stanno arrivando, ma la marea sta salendo E devi rimanere al sicuro finché non... Ascolta attentamente, ti dirò tutto quello che devi fare Bene, ricevuto, zio Sam Ok, Sara Non appena avrai sganciato la cintura di sicurezza Abbassa il finestrino ed esci dalla macchina Ricordati, cintura, finestrino e fuori Ho capito, zio Sam Cintura, finestrino e fuori Cintura, finestrino Fuori Bravissima, Sara Non preoccuparti, Sara Ti tengo io Fantastico, Elvis Una fiamma celeste fuori controllo Ha causato incendi nella casa dei flood e nell'area circostante Una fiamma celeste fuori controllo ha causato incendi nella casa dei flood e nell'area circostante Penny, tu vai alla casa dei flood, noi gestiremo gli altri incendi Ma abbiamo bisogno che Saturn individui le zone colpite Ricevuto, Sam Espulsione di Saturn, ora Ci sono un paio di incendi nelle foreste nord orientali, Sam Ricevuto, Elvis Stiamo andando Laggiù Joe e Mike sono intrappolati dentro Ci pensiamo noi Andiamo ragazzi State ascobacciati e usciamo subito da qui Cerchiamo di spegnere questi incendi Voi due spegnete il fuoco principale prima che si diffonda Io mi occupo dei più piccoli Papà! Ehi! Oh papà Ero così preoccupata Alla casa dei flood è tutto sistemato, Sam Qual è la vostra situazione? Qui abbiamo tutto sotto controllo, Penny Fuoco? Fuoco! Eppure non ci avevo messo il peperoncino No! Bella intendeva dire un vero fuoco Guardate! Meglio chiamare la caserma dei pompieri È scoppiato un incendio al palco di Ponti Patti E tutte le pinze rischiano di finire bruciate È scoppiato un incendio al palco di Ponti Patti E tutte le pinze rischiano di finire bruciate Non le pinze! Dobbiamo chiedervi di indietreggiare per la vostra sicurezza Vi ringrazio Ok, squadra A quanto pare abbiamo un forno a legna e fiamme Una bomboletta del gas E per finire un microonde elettrico Io vado a scollegare il microonde E io raffredderò la bomboletta a gas Passiamo alla schiuma appiccicosa Ricevuto, Ellie L'incendio si espande Ci penso io, Sam Le nostre pinze! Fenalia, vieni qui! Sara, fermati! Dobbiamo uscire adesso! Mamma! Papà! Meglio chiamare la caserma dei pompieri! C'è un incendio alla trattoria del pesce intero E Sara è rimasta dentro a cercare Tenalia C'è un incendio alla trattoria del pesce intero E Sara è rimasta dentro a cercare Tenalia Devo chiedervi di indietreggiare per la vostra sicurezza Vi ringrazio Io vado a cercare Sara e Tenalia Io penserò alle fiamme Non vedo né Sara né Tenalia qui Vado a cercarli nel semiterrato Ricevuto, Sam! Sara! Sara! Sono proprio qui, zio Sam! Ah, Sara! Dobbiamo uscire! Ma non riesco a trovare Tenalia! Non preoccuparti, Sara Lo troveremo Ma prima devo assolutamente portarti via di qui L'incendio è spento, Sam! Non ho trovato Tenalia da nessuna parte! Che cosa c'è, bella? Va, fammi vedere! Perché stanno usando il giocattolo di Tenalia? Perché lo sta andando a cercare per te È spaventato dal fumo dell'incendio Guida la radar! Brava, così! Seguilo! Ma che bella squadra! Che bravi cani! Oh, che succede? Oh, no! Trevor! Sante! Sante! Delis! Credo sia meglio che tu chiami la caserma dei pompieri! Il supermercato è in fiamme E Trevor, il mio eroe È intrappolato all'interno insieme a mezza tonnellata di piselli surgelati Io ho salvato il piede di Dolly! Il supermercato è in fiamme Trevor, il mio eroe E voglio dire, l'eroe di Delis È intrappolato all'interno insieme a mezza tonnellata di piselli surgelati Coraggio cadetti! Li seguiremo nel nostro minibus In questo modo potrete vedere la squadra in azione Andiamo! Una vera emergenza! Una vera emergenza! Sam! Tu stacca la corrente mentre io penso alle fiamme! Io vado a cercare Trevor Ok Penny, via libera Non riesco a trovare Trevor! Il fumo è troppo denso, non vedo niente! Sam, dà una mano a Elvis mentre Penny spegne il resto delle fiamme Vado subito, Ellie Trevor! 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 Riesci a sentirci? Sam, vado di sopra nella stanza di Norman Vedo muoversi qualcosa Percevuto, Ellie Quanto ossigeno mi resta? Sei coperto, Sam Il tuo ossigeno è al 68% Quindi fai pure con calma e senza fretta L'ho trovato, Ellie! Trevor, resta giù e spostati verso di me D'accordo, Sam E adesso ti porto via da qui Ah! Ehm... Oh cielo! Io temo proprio che ci siamo persi Qui non c'è traccia di loro Meglio chiamare la polizia Siamo pari Ancora non sappiamo chi andrà in elicottero alla festa Ah! I pionieri sono dispersi nella foresta Dobbiamo avviare subito una missione di ricerca e soccorso I pionieri sono dispersi nella foresta Dobbiamo avviare subito una missione di ricerca e soccorso Quella foresta è troppo fitta per attraversarla con Venus o Aydrus Ed è troppo lontana, piedi Allora, come raggiungiamo la zona di ricerca prima che faccia notte? Beh... In realtà un modo ci sarebbe Questo non è proprio il viaggio in elicottero che mi ero immaginato Non preoccupatevi ragazzi Cercherò di andare piano e con molta prudenza Ricevuto, sergente E avviseremo se ci saranno troppe turbulenze Non abbiate paura Non devo fare altro che salire sull'albero più alto Per capire esattamente dove siamo Mi dispiace Norman ma credo che mi sembi... Ci siamo allora Tutto a posto, sergente Ravani Ricevuto, Sam Io sarò i vostri occhi dal cielo mentre voi controllate a terra Fa molta attenzione, nonno! Non ti preoccupare, un vecchio pioniere non perde mai la sua presa Oh cielo Ci stiamo avvicinando Questa è la voce di Sarah Ehi, dov'è Garrett? Garrett, va tutto bene? Al momento sono un pochino in difficoltà, Sam Sta calmo, vengo subito a prenderti Abbiamo trovato Garrett e ragazzi Ma ci serviranno rinforzi via aerea Ricevuto Tirami su Vuoi un passaggio a terra, Garrett? Certamente, Sam Sì! Oh! Ha schiacciato il mio pranzo! Sì, sergente Ravani Dietro di lei? Oh, ma tu guarda! Joe e Anna si dirigono in mare aperto su una mongolfiera con motore a reazione Joe e Anna si dirigono in mare aperto su una mongolfiera con motore a reazione Sargente Ravani, riesci a vedere dove sono? No, Sam Andavamo troppo veloci Andrò verso il mare aperto e controllerò la zona Pronto a fornire supporto dall'uola B2? Sergente Ravani, si diriga in direzione sud E Tom, tu cerca verso nord Ricevuto, capitano Steele Tieniti forte, Anna! Abbandonati la mongolfiera! Contatto visivo ottenuto Trasmetto subito le coordinate Scendo a prendermi Aggrappatevi a questa corda! Ben, porta Titan sull'isola di Pontipandi in fretta O ci ritroveremo a gestire un incendio enorme Sto andando Ma non c'è nessuno con me che possa attivare i cannoni ad acqua Lascia fare un B Credo di avere il pompiere che fa il caso nostro Buon appetito! C'è nessuno con me che cosa stai Il piano è vero Mi queria comunque E part pagare Hoppa La minuta di più Il piano è vero Il piano è vero Con me si stai Lo royal è vero Non è vero Ma non è vero асpera Mendy, Norman e Sara Bloccati sulla collina Rocce che cadono Serve aiuto Oh no, meglio chiamare la squadra di soccorso Mendy, Norman e Sara Sono intrappolati sulla collina Che sta franando vicino al centro alpino Mendy, Norman e Sara Sono intrappolati su una collina Che sta franando vicino al centro alpino Serviranno dei porti, Sam Vengo a prenderti con Idrus Ci vediamo lì Oh, bello! State calmi e restate dove siete, ragazzi Stiamo arrivando Ok, Sara Adesso assicurerò la mia corda alla roccia E ora ti stringerò questa fascia intorno al corpo Ok, Norman La corda è assicurata Adesso ti calerò di sotto Sei pronto? Mendy Il burrone è troppo ampio Devo trovare un altro modo per raggiungerti Resisti, Sam Veniamo ad aiutarti Chilo! Oh! Forza, Kilo Proviamo per di qua Sam! Afferra questa! Preparati, Mendy Attraverserò il pendio Siamo pronti, sergente Ravani Chilo Da questa parte Grazie mille, sergente E grazie anche a te, Kilo Oh! James Jones è stato trascinato via su una tavola da SAP È stato visto dirigersi verso il mare Andiamo, Penny Forza, ragazzi Venite con me Potrete vedere la squadra in azione Da qua su Godrete di una vista fantastica Non sarà certo migliore del museo dei... Oh! Beh, immagino che non sarà poi così male Oh! Wow! Hanno preso anche Titan È davvero strepitoso! Oh! E c'è anche l'elicottero della polizia! Questo è il tour più grandioso di tutti! Oh no! La tavola si sta sconfiando! Non affondare ancora! Ce l'ho fatta! Ma ora sono bloccato! Non mi piace essere bloccato! Sono qui! Ehi voi! Da questa parte! Scusami, uccellino! Ti ho chiesto scusa! Ho capito! Stai proteggendo il tuo nido! Non preoccuparti, me ne starò da questo lato! Però devo far sapere in qualche modo alla squadra di soccorso dove sono! Aspetta un secondo! Ok, adesso dividiamoci! Dobbiamo estendere l'area di ricerca! Nessuna traccia di loro, Penny! Niente anche da quassù! È un'area così immensa! Ehi! Sono qui! Da questa parte! Da questa parte! Un momento! Vedo qualcosa! Che cosa vedi, sergente? L'ho trovato! È James! Ma non posso atterrare per portarlo in salvo! È la stagione di nidificazione! Non voglio disturbare gli uccelli! Sam! Puoi andare tu! Neptune non può arrivare laggiù! Ricevuto, Penny! Juno è il mezzo ideale! Zio Sam! Avvicinati! James! Fa' attenzione, Zio Sam! Qui c'è un uccello molto arrabbiato! Non preoccuparti, James! Ti porteremo via da qui in un batter d'occhio! Così lei potrà avere l'isola tutta per sé! Tieniti forte, James! Preso! Bronwyn! Signora Chen! Cos'era per tutti i grizzly? Fuoco! Fuoco? Te lo dicevo che c'era un drago! Non si tratta di un drago! Hanno fatto cadere le candele! D'accordo! Restate tutti uniti! Meglio chiamare la caserma dei pompieri! La bestia della montagna di Ponti Pandi ha fatto cadere due candele alle alghe e ha piccato un incendio nel bosco! La bestia della montagna di Ponti Pandi ha fatto cadere due candele alle alghe e ha piccato un incendio nel bosco! Beh, chi se lo aspettava? Dobbiamo andare subito ad aiutarli! Andate da quella parte! Sto arrivando! C'è anche Bessie! Mettetevi tutti al riparo! Ellie! Penny! Prendete le pompe a zaino! Ricevuto, Sam! Ricevuto, Sam! Voi state indietro! È in arrivo una bella secchiata d'acqua! Quello sì che è un bel secchio grosso! No, aspetta un momento! Ma quello è proprio il cappello di tua zia, Phyllis! Non è vero! Questo è... È un cappello da pirata! Piano, Prince! Anna! Mamma! Prince! Mi è caduto il panino! Sarà meglio chiamare la squadra di soccorso! Il fantasma di Pontipan di Pitt ha spaventato un cavallo e ora sta trasportando un carro a tutta velocità con dei passeggeri a bordo Il fantasma di Pontipan di Pitt ha spaventato un cavallo e ora sta trasportando un carro a tutta velocità con dei passeggeri a bordo Ah! Questa non l'avevo mai sentita Oh, adesso ti allaccio al tuo nuovo sedile, Radar Meglio non mettere la sirena, Elvis Non vogliamo spaventare di più il cavallo Sam, Lizzie, penso che avremo bisogno di rinforzi Ricevuto, Elvis Vi raggiungerò più in fretta possibile Sto arrivando anch'io Rallenta, Prince! Rallenta! Quel cavallo l'ha fermato! Oh no, Penny! Come faremo a salvarli senza spaventare ancora di più il cavallo? Non lo so davvero, Elvis Che cosa c'è, Radar? Ho l'impressione che voglia uscire Radar! Speriamo che non spaventi il cavallo Non preoccuparti, Penny Radar e Prince si conoscono fin da cuccioli Sicuramente non lo spaventerà Scusateci! Oh, sta imitando quello che facevano i cani delle caserme tanto tempo fa Ovvero badare ai cavalli Sta tenendo il suo stesso passo e lo sta rallentando State bene voi due? Sì, ti ringrazio, Penny Sì! Radar ci ha salvato la vita! La barca di Charlie sta affondando nei pressi del faro E c'è un uomo in mare La barca di Charlie sta affondando nei pressi del faro E c'è un uomo in mare Sto arrivando! Ellie, puoi venire ad aiutare Jody con lo scafo mentre salviamo Charlie e Mike? Ricevuto, Sam! Di alla mia sorellina che sto arrivando! Tenetevi forte, ragazzi! Questo significa che è finita la ricerca della razza amagulata? Eccoli laggiù! Mike! Non ti muovere, stiamo arrivando! Proviamo a prenderti! Non posso avvicinarmi, Sam! Ci sono degli scagli sotto l'acqua! Ti ho richiesto un elicotero! Sono pronto, Tom! Vado a prendere Charlie! Oh, è un piacere vederti, Sam! Il piacere è tutto mio, Mike! Tira ci su, Tom! La tengo ferma, Sam! Grazie, Tom! Oh no, dobbiamo allontanarci! Se il Submaster si ricoprisse di olio appiccicoso, non riusciremmo più a pulirlo! Fermi! Il vostro motore sta andando a fuoco! L'olio si espanta verso di noi! Oh no! Il motore ha perso potenza! Non possiamo muoverci! Meglio chiamare la squadra di soccorso! Oh, guardate come l'ha ridotta! La mia povera pantofola! Non è più la pantofola di prima, signore! C'è una chiazza d'olio in fiamme vicino l'isola di Ponti Pandi e il professor Peoples e il suo gruppo sono in pericolo! C'è una chiazza d'olio in fiamme vicino l'isola di Ponti Pandi e il professor Peoples e il suo gruppo sono in pericolo! Uh! Questa era tosta da dire! Oh, da quanto pare avrete bisogno di Titan, Neptune e Juno oggi, Sam! Ci servirà il separatore d'olio! Vado a prenderlo! Non possiamo andare da nessuna parte! Ma la chiazza d'olio si sta ancora espandendo! Si sta muovendo verso di noi! E oggi ho messo il mio papillon preferito! E anche le creature marine sono in pericolo! Oh cielo, oh cielo, oh cielo! Come prima cosa, agganciamo Neptune al sottomarino e portiamolo al sicuro! Ricevuto, Sam! Dobbiamo posizionare le barriere di contenimento! Ricevuto, Penny! Adesso entro in scena io! Accerchiamo per bene quella chiazza d'olio! Ora possiamo andare via, papà! Un lavoro eccellente, squadra! E il separatore d'olio pulirà ogni traccia di schiuma e olio rimaste! Le creature marine non correranno rischi! Oh no! Ho trovato! Sei forte, Anna! Oh no! Qualcuno è in serio pericolo in mare! Meglio chiamare la squadra di soccorso! Un momento! Voi siete la squadra di soccorso! È la barca di Charlie! A quanto pare è stata spinta da una risacca! Anna e Jody oggi sono in mare! Meglio contattare Ben! Jody e Anna sono state risocchiali! Sono state risucchiate da una forte risacca vicino gli scogli a Picco Ponti Pandi! Jody e Anna sono state risucchiate da una forte risacca vicino gli scogli a Picco Ponti Pandi! Sam, Ellie, ci stiamo muovendo! Vi vengo a prendere sotto la scogliera! Ricevuto, Penny! Benvenuti a bordo! Ellie, tu sali su Titan! Ricevuto, Sam! Questi scogli sono troppo ravvicinati! Non credo di riuscire ad avvicinarmi con Titan! Nessun problema! Questo è un lavoro per Neptune! Assicuratevi che Anna stia bene! Ricevuto, Penny! Anna! Afferra questa! Oh, Ellie! Non sai quanto è bello vederti! Anche per me è bello vederti, Anna! Jody sta bene! Lo spero tanto! Jody! Prova ad allontanarti da quegli scogli! Stiamo venendo a prenderti! Ci siamo quasi, Penny! Aggrappati a me! Grazie, ragazzi! Giusto in tempo, da quello che ho appena visto! Meglio chiamare la squadra di soccorso alpino! Penaglia il cane e Wally la pecora sono bloccati su una sforgenza rocciosa sulle montagne! Sì! A me sembra che sia un pareggio! Tenaglia il cane e Wally la pecora sono bloccati su una sforgenza rocciosa sulle montagne! Ricevuto, Arnold! Ci mettiamo in marcia! Lizzie! Noi andiamo avanti! Ci vediamo in cima! Ricevuto, Sam! Credo di aver visto la sforgenza oscillare un po' Questo rumore sembra... Oh, sì! La squadra di soccorso alpino è qui! Va tutto bene, Tenaglia! Va tutto bene, Wally! Sam, Ellie ed Elvis vi porteranno in salvo i men che non si dica! Sembra troppo ripido per scendere in sicurezza, Sam! Hai ragione, Elvis! Ellie, dobbiamo calarci da loro con la corda! Prendo l'imbraccatura! E io attivo subito l'argano di Phoenix! Piano, 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 voi due! Beh, pare proprio che vi siate ficcate in un bel pasticcio, non è così? Adesso vi metterò addosso una cosetta, d'accordo? D'accordo, Elvis! Siamo pronti! Ottimo lavoro, ragazzi! Gli darò un'occhiata per assicurarmi che stiano bene Stazione di controllo a infermiera Frode! Il Capitano Steel è stato dato per disperso! C'è bisogno di lei nel bosco! Ricevuto! Sto arrivando! Un momento! Ma sei tu, James? Sì! E puoi chiamarmi Viceagente James? Trovata! Venite, voi due! È meglio che non ci separiamo più d'ora in poi! Pronti a lanciare Saturn? Ricevuto, Sam! Ci divideremo e perlustreremo la zona! Niente telefono, niente cibo, niente comodità casalinghe Sembra che dovrò passare una notte solitaria nella foresta Che cosa? Ecco dov'era, signore! L'ho trovato! Ottimo lavoro, Sam! Inviaci subito le coordinate! Ricevuto, Ellie! Per tutti i tubi aggrovigliati! Un salvataggio! Le serve un passaggio, Capitano Steel? A quanto pare si è stirato un muscolo, Capitano Steel Si riprenderà tra qualche giorno La prossima volta, signore La prego di seguire il sentiero Non sapevamo dove fosse Non stava cercando di prendere una scorciatoia, vero, signore? Beh, era solo una piccola scorciatoia Di certo non lo farò un'altra volta Ci fa piacere sentirlo Bene! Il professore rimanga esattamente dov'è Cercheremo aiuto! Coraggio, pionieri! Sbrigatevi! I razzi di segnalazione sono qui dentro Voi due, restate lontane A distanza di sicurezza Pronte? Pronte! Copritevi gli occhi! È ora di allertare la squadra di soccorso in mare Un razzo di segnalazione è stato avvistato sull'isola di Ponti Pandi Qualcuno è in pericolo Un razzo di segnalazione è stato avvistato sull'isola di Ponti Pandi Qualcuno è in pericolo Coraggio, Penny Dobbiamo andare Fortuna che Titan ha passato il test Ho appena avvistato Trevor e i pionieri sulla spiaggia Io e Penny ci dirigiamo lì Ben, tu controlla la scogliera Ricevuto, Sam! Ha trovato il Professor Peacles È bloccato a metà altezza su una scogliera poco più a nord della spiaggia Stiamo arrivando, Ben! Resti fermo dove si trova, Professor Peacles Stanno arrivando i soccorsi! Non credo che riuscirò a reggere ancora per molto Scommetto che i nostri antenati di Ponti Pandi non restavano boccati così Professore! Stia calmo! Non le succederà niente! Sono arrivati i soccorsi Andiamo! Ricevuto, Penny! Grazie al cielo, oggi non siamo più nei tempi antichi All'epoca non potevano certo compiere salvataggi come questi Bene, e adesso la portiamo giù Grazie al cielo, è stata un'esperienza spaventosa Un professore salvato! Fatto! Sara, guarda! Mamma! Gli animali! Meglio chiamare la caserma dei pompieri Il centro veterinario sta andando a fuoco E gli animali sono intrappolati all'interno Il nostro, grazie a tutti! Forza, ragazzi! Restate tutti indietro! Ma gli animali staranno bene? Non preoccuparti. La squadra dei pompieri è qui. Faranno uscire gli animali in sicurezza. Elvis, l'incendio si espande. Dobbiamo far uscire gli animali in fretta. Ho ricevuto, Sam! Radar, Kilo, Ombra, ho bisogno del vostro aiuto! La staccionata è bloccata! Kilo, aprila! Ombra, raduna le pecore! Kilo, va! Radar, dobbiamo assicurarci che non ci siano altri animali rimasti intrappolati. Pronto? Va a vedere! Via libera! Tutti gli animali sono andati via! E anche l'incendio! Trevor! Aiuto! Trevor! Cerca di nuotare fino alla riva! Non ci riesce! La corrente del fiume è troppo forte! Lo sta portando dritto, dritto alla cascata! Dobbiamo chiamare la caserma dei pompieri! Trevor Evans è finito nel fiume durante la corsa col cerchio e va verso la cascata. Trevor Evans è finito nel fiume durante la corsa col cerchio e va verso la cascata. Purifica di nuotare! Aiuto! Aiuto! È lì! Afferra questo, Trevor! Reggiti forte! Va tutto bene, Trevor! Sei salvo adesso! Oh no! Il fuoco! Meglio chiamare la caserma dei pompieri! Non preoccuparti! Abbiamo un secchio pieno d'acqua! Penso che chiamerò lo stesso la caserma dei pompieri! Gli uomini selvaggi di Pontipandi si sono fatti raggirare dalla volpe di nuovo e hanno innescato un incendio boschivo! Non mi piacciono le gare a tre piedi! Gli uomini selvaggi di Pontipandi si sono fatti raggirare dalla volpe di nuovo e hanno innescato un incendio boschivo! Scusate cadetti, dobbiamo andare verso l'incendio! Aspettate! Fermi! Questo vuol dire che ho un pareggio! Oh! 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 Svelti! Azionate le manichette! Svelti! Non hai imparato proprio niente dalla corsa a tre piedi, Norman Troppa fretta, meno velocità E soprattutto lavoro di squadra Cadetti, rimanete a distanza di sicurezza insieme a me Bene squadra, io prenderò Venus 2 Andrò ai confini dell'incendio e lo arginerò con della schiuma appiccicosa Arnold e Sam, occupatevi delle fiamme più grandi con le manichette di Jupiter E tu Elvis, occupati delle fiamme più piccole con una vanga flessibile D'accordo! Wow! Guardate che bravi! Una vera squadra! Hai ragione, una vera squadra Aiuto! Credo sia meglio chiamare la squadra di soccorso Ottimo lavoro ragazze! Vincerete di sicuro con uno di quegli scatti La signora Chen è sopra una tavola a vela impazzita Diretta verso il mare E non riesce a fermarsi La signora Chen è sopra una tavola a vela impazzita Diretta verso il mare E non riesce a fermarsi La signora Chen è sopra una tavola a vela impazzita Scusate! Fatela fermare! Venga duro, signora Chen! Ci siamo quasi! Fate presto! Tieni la ferma, Ellie! Ricevuto, Sam! Non si preoccupi, signora Chen È salva adesso Mi dispiace tanto Ero così presa a cercare di scattare la mia foto vincente Che non ho pensato alle norme di sicurezza Dovrebbe fare sempre attenzione quando è vicino l'acqua, signora Chen Specie se sta usando un equipaggiamento che non ha mai usato Aiutovi, prego Siamo rimasti bloccati su un'isola deserta sul mare Norman Price Norman Price? PS, portate anche delle gassose Qualcuno ha visto l'illio i ragazzi Oh no Norman e gli altri saranno bloccati su una di quelle isole Chiamo la squadra di soccorso I ragazzi sono bloccati su una delle isole Sulle piane di marea E la marea si sta alzando I ragazzi sono bloccati su una delle isole Sulle piane di marea E la marea si sta alzando Grazie, Penny Bene, Ellie Questo sembra un lavoro per l'overcraft Ricevuto, Sam! Riesci già a vederli, Sam? Non ancora, Ellie Ah, eccoli laggiù, Ellie E avviciniamoci lentamente ora Ci hanno salvati! Ok, ragazzi, state calmi Un momento, dov'è Norman? Eccomi, sono qua giù! Mi sono ferito il ginocchio! Non riesce a muoverci D'accordo, Ellie L'alta marea si sta avvicinando Dobbiamo portare qui Ellen in fretta Non preoccuparti Norman Ti porteremo subito via di qui Ok, diamo un'occhiata a questo ginocchio, Norman Lily! Che ne è stato di Norman? Lui sta bene? È solo una distorsione Tornerai come nuovo tra qualche settimana Grazie mille, infermiera Flood Portaci su, Tom! Oh una sera